Dopo un'esperienza di due giorni bloccata nella grotta di Buenofonteno, situata in provincia di Bergamo, la 31enne Ottavia Piana è finalmente uscita ed è al sicuro. Nonostante fosse rimasta cosciente per tutto il periodo, la donna non riusciva a muoversi autonomamente a causa di una caduta durante l'escursione che le ha causato una frattura alla gamba. Al momento sta bene ma verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. Ottavia per due notti è rimasta nella grotta dopo essere scesa sul lago di Zeo che ha una profondità di 150 metri insieme ad alcuni amici e colleghi nella giornata di domenica 2 luglio. Proprio mentre stava esplorando una nuova via d'uscita della cavità, ha subito la caduta che le ha provocato la frattura alla gamba. Da quel momento non è più riuscita a spostarsi. Una delle persone presenti con lei è risalita dalla grotta per chiedere aiuto. In breve tempo tecnici e soccorritori della zona sono giunti sul lago fin da subito per rassicurarla e mantenere il contatto con l'esterno. I soccorritori le hanno fatto scendere un cavo telefonico che le ha consentito di comunicare con l'esterno.